L'evangelizzazione non è in posizione perché la libertà cristiana non entra in conflitto con le altre culture. Così, Papa Francesco, questa mattina all'udienza generale nell'Aula Paolo VI, il Santo Padre è tornato a parlare della libertà cristiana. Ascoltiamo. Nella chiamata alla libertà scopriamo il vero senso dell'inculturazione del Vangelo. Qual è il vero senso dell'inculturazione del Vangelo? Che il Vangelo prende la cultura nella quale vive la comunità cristiana e parla di Cristo, ma con quella cultura. E qual è il vero senso di questa inculturazione? Essere capaci di annunciare la buona notizia di Cristo Salvatore rispettando ciò che di buono e di vero esiste nelle culture. Non è una cosa facile. Sono tante le tentazioni di voler imporre il proprio modello di vita come se fosse il più evoluto e il più appetibile. Quanti errori sono stati compiuti nella storia dell'evangelizzazione volendo imporre un solo modello culturale. La uniformità. E questo, la uniformità come regola di vita, non è cristiano. L'unità sì. Unità sì, uniformità no. A volte non si è rinunciato neppure alla violenza pur di far prevalere il proprio punto di vista. Pensemo alle guerre, no? In questo modo si è privata la Chiesa della ricchezza, di tante espressioni locali che portano con sé la tradizione culturale di entere popolazioni. Ma questo è l'esatto contrario della libertà cristiana. Che nella sua incarnazione, ricorda il Vaticano II, si è unito in certo modo a ogni uomo. E questo vuol dire che non è uniforme, no? C'è la varietà, ma varietà unita. Da qui deriva il dovere di rispettare la provenienza culturale di ogni persona, inserendola in uno spazio di libertà che non sia ristretto da alcuna impossessione dettata da una sola cultura predominante.